Professore Nico Miraglia, domani appuntamento per il 76esimo anniversario dall'uccisione di suo padre al Cursio, con un evento stavolta molto importante. Molto importante e diverso per parecchi motivi, perché di solito noi la mattina alle 10 andiamo al cimitero, quest'anno invece non andremo al cimitero, ma solo perché stiamo rifacendo la tomba di mio padre con il monumento, che mi sembra corretto fare all'immagine e alla storia di mio padre. Noi saremo invece alle 9 e mezzo alla Sala Blasco, saranno con noi fra gli altri il responsabile dell'antimafia, il dottore Cracolici, il presidente regionale antimafia, avremo i presidenti regionali della CGL, della cooperativa, e poi ci saranno, spero che ci siano, i nostri saccenzi. Parleremo di Accursio Miraglia e quest'anno daremo anche un altro taglio, parleremo anche dell'uomo Accursio Miraglia, non parleremo solo del sindacalista, non parleremo esclusivamente di quello che è stato l'assassino di mio padre, ma parleremo anche di Accursio Miraglia, come poeta e come benefattore di Sciacca. Dopo l'appuntamento in Sala Blasco poi ci sarà un secondo momento. Sì, finito la riunione in Sala Blasco poi creeremo un corteo che ovviamente dalla Sala Blasco, quindi dal comune di Sciacca, andremo salendo di a Roma alla piazzetta Lazzarini dove c'è il busto di mio padre. Deporremo lì le corone e saluteremo tutti coloro i quali ci vogliono onorare della loro presenza. Vi anticipo che più in là metteremo nel vicolo baldacchino una targa perché mio padre nacque proprio in vicolo baldacchino. Ci sono tutte le vicende burocratiche che purtroppo non ci hanno permesso di poterlo fare il 4 gennaio, ma io ritengo che le date hanno un'importanza relativa, quello che è importante è ricordare tutte queste persone. Fra altre cose lo voglio dire che ieri era il compleanno di mio padre, perché lui era nato il 2 gennaio del 1896, come nacque pure il 2 gennaio Placido Rizzotto. Dopo 76 anni, quindi sono trascorsi 76 anni, da figlio non ha un po' il timore che la memoria di suo padre possa perdersi per le prossime generazioni? Io spero di no, perché proprio la fondazione che noi abbiamo creato, io sto cercando di allargarla, cioè non essere solo i familiari, i parenti a far parte della fondazione, ma essere tutte quelle personalità che servono a Sciacca e al futuro di Sciacca per ricordare Accurso Miraglio. Faccio anche l'invito alla televisione e al Radio Montecronio, perché mi piacerebbe che questa fondazione non avesse solo come unico scopo o come unico interesse quello della famiglia nei confronti di Accursio, ma di tutto Sciacca, di tutte le persone che vogliono allargare l'immagine di Accursio Miraglia per poterla portare il più lontano possibile, quindi invito anche i giovani ad essere presenti per poter tutti assieme, perché come ho detto spesso quando parlo con i ragazzi, io ero un atleta, facevo pure la staffetta, nella staffetta c'è il testimone, perfetto, nella staffetta della storia di Sciacca desidero dare il testimone della fondazione di Accursio Miraglia ai giovani, in modo tale che loro poi la possano dare ad altri giovani, per lasciare in eterno la storia non solo di Accursio Miraglia, ma di tutte le vittime innocenti di mafia. Lei ne faceva cenno all'inizio, si sta lavorando sulla tomba di suo padre al cimitero, quando sarà pronto questo monumento? Non lo sappiamo, qui c'è tutta la buona volontà dell'impresa che sta costruendo, ma dobbiamo anche tenere presente il tempo, se non piove ovviamente penso che per fine mese tutto sarà pronto e devo anche vedere se, perché dietro la tomba ci sarà il monumento con la cavalcata, che molto graziosamente il professore Solarino, con l'autorizzazione della preside Pisano, abbiamo organizzato per fare in ceramica la cavalcata di Accursio Miraglia. Quando questo sarà pronto poi faremo una manifestazione anche al cimitero, come la faremo quando metteremo la targa in vicolo dove è nato mio padre. Un'ultima domanda, possiamo fare appella a chi ci ascolta ad essere presente giorno 4 in Zalablasco? Mi auguro, infatti è la cosa principale. Ripeto, a parte il fatto che avremo con noi il presidente regionale antimafia, e quindi proprio per dimostrare che la fondazione e la memoria fanno sempre parte di quello che è la lotta alla mafia e la lotta a tutto ciò che è contro il popolo e contro le persone meno abbienti.